Dal Vangelo secondo Luca No, si chiamerà Giovanni Le dissero Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome Allora domandavano con cegno a suo padre come voleva che si chiamasse Egli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni è il suo nome Tutti furono meravigliati All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua E parlava benedicendo Dio Tutti i loro vicini furono presi da timore E per tutta la regione montuosa della Giudea Si discorreva di tutte queste cose Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo Che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele Buona domenica Oggi celebriamo la festa della nascita di Giovanni Battista Il 24 di giugno Solstizio Quando il sole comincia a diminuire Ed è la ragione per cui Dal tempo di Sant'Agostino Siamo fine quarto, inizio quinto secolo Si è celebrata la festa del Battista Proprio perché lui aveva detto Io oramai devo farmi da parte E' sorta un'altra luce Ecco il fatto che si spegne adesso Il sole comincia a spegnersi Proprio è il Battista che scompare Perché è arrivata un'altra luce Quella di Cristo Questa è la ragione per cui è stato scelto questo giorno Per la festa della nascita del Battista Alle mie spalle vedete il luogo che la tradizione Considera quello della nascita del Battista A Incarem Lì sarebbero vissuti Zaccaria, Elisabetta E lì sarebbe andata anche Maria A visitare la cugina Quando ha saputo che stava aspettando Nella sua vecchiaia Un figlio Un dono di Dio al mondo Alle mie spalle sta scorrendo questo villaggio E notate là sulla mia sinistra Dove c'è quella chiesa Quello è considerato il luogo Dove sarebbe nato il Battista E' molto bello questo panorama Che voi vedete di Aincare Sullo sfondo anche si vede La città di Gerusalemme C'è un altro luogo che è significativo In questo villaggio ed è la Sorgente La Sorgente che c'era già al tempo di Gesù Al tempo di Maria La vedete alle mie spalle Questa fontana Chiamata la Fontana della Madonna E qui si dice anche che ci sia stato poi L'incontro fra Elisabetta e Maria Il nostro tecnico ci fa vedere anche Due Una signora e una ragazza È il gruppo che guidavo giù in Israele Che ci mostra appunto l'incontro Della Madonna con Elisabetta Ecco Vediamo di presentare allora questa figura del Battista Il messaggio che ci vuole dare in questa festa Per vedere sorgere e svilupparsi A partire da Gerusalemme Il culto della Madonna Abbiamo dovuto aspettare il V secolo Con la costruzione della Nea La chiesa dedicata a Maria Invece già un secolo prima Il culto di Giovanni Battista Era già diffuso in tutto il mondo Il popolo attributato a questo santo Una venerazione straordinaria È il più raffigurato nell'arte di tutti i secoli Non c'è pala d'altare In cui non compaia il Battista Nel suo vestito caratteristico La pelle di cammello La cintura attorno ai fianchi E poi in mano il bastone Che termina a forma di croce Sono innumerevoli le diocesi Che l'hanno come patrono I santuari Del resto anche il nome più comune nel mondo È proprio quello di Giovanni Ed è Giovanni Battista Come si spiega tanta simpatia per questo santo? In genere i santi sono rinomati Se fanno miracoli Il Battista non è rinomato per questo Allora come mai c'è tanta simpatia popolare per quest'uomo? E come mai è iniziata così presto? È abbastanza facile rispondere Se noi pensiamo che nel deserto di Giuda Dove è vissuto il Battista Già nel IV secolo Hanno cominciato a vivere tanti monaci Nel deserto Giuda Si calcola che a un certo punto ci fossero 10.000 monaci E l'avevano come protettore Come simbolo, come modello Proprio perché anche lui era vissuto in quel deserto Vediamo allora il brano evangelico Che oggi ci viene proposto Il primo elemento che viene richiamato È il fatto che la nascita del Battista Non è normale C'è stato di mezzo la sterilità Della madre Un'incapacità umana quindi Di dare vita E c'è l'opera L'intervento di Dio Noi nella Bibbia troviamo Frequentemente Questa immagine Quando Ci vuole dire Che c'è stato un intervento di Dio Per fare un dono Per fare un dono di una persona Che sarebbe stata significativa Nella storia del mondo E quindi per mettere in risalto L'opera di Dio Si dice sempre Che erano anziani I genitori Pensiamo a Samuele per esempio Sansone Questi personaggi sono presentati sempre Come nati da una coppia di anziani O sterile La madre È solo per mettere in risalto Che qual personaggio È donato da Dio Al mondo Ogni bambino che nasce È sempre un segno Della tenerezza paterna Di Dio Che dona al mondo Un suo figlio O una sua figlia Ma questo bambino Ha avuto Una missione del tutto particolare Nella storia Dell'umanità Continua il nostro brano evangelico Dopo aver richiamato Questo intervento di Dio Presentando Insistendo Sul nome che viene dato al bambino L'ottavo giorno Vennero per circoncidere il bambino E volevano chiamarlo Col nome di suo padre Zaccaria Sorprende Che Luca Faccia coincidere Il momento Della circoncisione Con l'imposizione Del nome Lo fa anche con Gesù In realtà Non accadeva così Perché il nome Veniva dato Al momento della nascita Era il modo Con cui il padre Lo riconosceva Come suo figlio E gli dava il nome Luca invece Unisce La circoncisione Con il nome E stupisce anche il fatto Che Luca Ci presenti Questo fatto Che Gli volevano dare Il nome di suo padre Questa non era la tradizione Perché La tradizione era quella Di dare il nome del nonno Non del padre E pare quindi Che Luca Più che riferire un fatto Che del resto È assai marginale È interessato A mettere in risalto Che per il battista Il nome di Zaccaria Non era adatto E ci chiediamo il perché Cominciamo a cogliere Il motivo Per cui l'Evangelista Accosta La circoncisione Con l'imposizione Del nome La circoncisione È il segno Dell'appartenenza Al popolo Dell'alleanza Con questo rito Si entra a far parte Di Israele E si diventa Eredi Delle promesse Che Dio ha fatto Ad Abramo Alla sua discendenza All'ottavo giorno Quindi Il battista Diventa Israelita Come suo padre Ed ecco qui Allora Il nome Il nome Che viene dato A questo Israelita Il nome Lo sappiamo Indicava la persona La missione Che doveva avere Aveva un significato Molto importante Quel nome Zaccaria Zahar In ebraico Significa Ricordare Quindi Zaharia Il Signore Si è ricordato Il Signore Ricorda Le sue promesse Il verbo Zahar Nella Bibbia Ricorre Centinaia di volte Ricorre Quando Dio Si ricorda Dio Si ricorda Della sua Alleanza Si ricorda Delle promesse Fatte ad Abramo E le mantiene E qui abbiamo Volevano dare Al Battista Il nome Di Zaharia Il Signore Si ricorda Era proprio Per mantenere Vivo Mantenere Viva Questa certezza Che il Signore È fedele Alle sue promesse E quindi Israele Non si doveva Mai scoraggiare In nessuna circostanza Della sua storia Drammatica Anche Mi veniva richiamato Zahar Ricorda Ricorda Che Dio È fedele Quindi non ti abbattere Come mai Si interrompe Adesso Questo nome Non viene chiamato Zaccaria Perché Zaccaria È il simbolo Di Israele Che lungo i secoli È continuato a trasmettere Di padre in figlio Il ricordo Delle promesse Di Dio Senza mai Vederne L'attuazione Ora basta Non c'è più Nulla da ricordare Adesso Adesso c'è da vedere Quindi il Battista Non può essere Chiamato Zaccaria Nel momento In cui Diviene membro Di Israele Perché Non dà Semplicemente Continuità Alla tradizione Di suo padre Come pensavano I parenti E i vicini Che non hanno avuto La rivelazione Del cielo Ma è l'inizio Di una nuova epoca È finito il tempo Del ricordo Delle promesse Per l'umanità È giunto Il nuovo giorno Quello in cui Le profezie Si sono compiute Zaccaria Infatti Dirà Lui che ha avuto La rivelazione È stato Gabriele Che gli ha detto Lo chiamerà Yohanan Giovanni Giovanni Significa Il Signore Ha fatto grazia Ha manifestato La sua bontà Ha mostrato La sua benevolenza Non c'è più Da ricordare Adesso C'è solo Da osservare Ciò che Il Signore Ha fatto E di fatti Zaccaria Quando aprirà La bocca Benedirà Il Signore Perché ha visitato Il Redento Il suo popolo È finito Il tempo Del ricordo Perché Adesso Vediamo La realizzazione Di ciò che aveva promesso Per bocca dei suoi santi profeti Di un tempo Si è ricordato Della sua alleanza Del giuramento Fatto ad Abramo Nostro padre Zaccaria rappresenta Israele Che ha passato Tanti secoli A tenere viva La promessa La certezza Che Dio L'avrebbe realizzata Adesso Ha visto Spuntare Dall'alto Un sole Che sorge Per Rischiarare Quelli che giacciono Nelle tenebre Nell'ombra di morte E dirigere i nostri passi In via di pace I vicini I vicini Furono presi Da timore Per tutta la regione Della Giudea La vedete Alle mie spalle Si discorreva Di tutte queste cose Si chiedevano tutti Cosa sarà mai Questo bambino E il bambino Cresceva Si fortificava E visse In regioni Deserte Fino al giorno Della sua manifestazione A Israele Quindi Lascia Il battista La famiglia E lascia Queste Queste Montagne Di Aincari Molto belle E Va nel deserto Vedete Questo deserto Alle mie spalle Si dice addirittura Che il battista Si è vissuto Con i monaci Di Qumran Passa la sua adolescenza E la sua giovinezza Nel deserto Si prepara Alla sua missione Assimilando Le ricchezze spirituali Che il suo popolo Ha accumulato Attraverso L'esperienza Del deserto Proviamo a vedere La ragione Per cui Il signore Aveva voluto Che il popolo Di Israele Che lui Voleva educare La ragione Per cui Gli ha fatto passare Tutto questo tempo Nel deserto Che è l'esperienza Che il battista Fa fin da piccolo Per prepararsi Alla sua missione Perché la sua missione Possa essere svolta In un modo autentico Anzitutto Il deserto È stata All'educazione All'essenzialità Al distacco Dall'attaccamento Ai beni Al rifiuto Dell'accumulo Nel deserto Si cammina E La terra Che appartiene A colui Che attraversa Il deserto È quella Che sta calpestando Quando va avanti Quella terra Non è più sua È proprio L'immagine Del cammino Della nostra vita Se noi ci fermiamo Ci costruiamo I nostri palazzi E poi ci affezioniamo A questo mondo Come se fosse per noi Quello definitivo Noi stiamo sbagliando Dobbiamo ripensare A questa esperienza Che il battista Proprio per essere autentico Sta facendo Richiamare Questa spiritualità Dell'essenzialità Del distacco Non che non sia importante Questo mondo Ma siamo di passaggio E va fatta Questa esperienza Del deserto Tra gente Che cerca Vestiti firmati Battista Vestiva Con ruvide Pelli Di cammello Tra gente Tra gente che portava Giuglielli Profuni Per darsi importanza Per contare Davanti alla gente Lui portava attorno ai fianchi Una cintura di cuoio La gente Mangiava cibi raffinati Costosi Lui invece Si cibava di cavallette Miele selvatico E' una vita Severa Dura Che ci insegna Che non si può conciliare Una vita facile E accomodante Con L'autenticità Di una vita Realmente vissuta Con significato E con senso Se non si fa questa esperienza Dell'essenzialità Un ritorno all'essenziale Nella nostra vita Il pane Che pane Non è brioche L'acqua Che è acqua Non è Non è coca cola O sprite Un ritorno all'essenziale Del resto L'elogio che Gesù fa Del battista Cosa siete andati a vedere Nel deserto Una canna sbattuta dal vento Cioè Dove tira il vento Dove vanno le mode Lui si piega No Un uomo avvolto In morbide vesti Dice Questi vivono Nei palazzi dei re Cosa siete andati a vedere Ecco Uno che è più Che un profeta Tra i nati di dono Non è sorto Uno più grande Del battista Oltre Alla austerità Di vita C'è il coraggio Di quest'uomo Che non ha piegato Il capo Di fronte ai potenti A costo della vita Ha difeso La verità E la giustizia Ecco un'altra ragione Per cui davvero Ci è simpatico E ci viene proposto In questa festa Perché Possiamo vedere Delle trasformazioni Che dobbiamo operare Nella nostra vita Se vogliamo davvero essere Degli autentici Cristiani Prepararci Ad accogliere davvero Cristo in noi Non è possibile farlo Se noi non facciamo Questa esperienza Che il battista ha fatto Un ricupero Dell'essenziale In una società Che perde Dio Noi Dobbiamo Cominciare A ripensare Al senso Della nostra esistenza A dare un taglio Superfluo Alle cose Raffinate Tutte quelle Che occupano Tanto spazio Della nostra vita Televisioni Diversi vivari Che ci impediscono Poi di trovare Il tempo Per pensare Al senso Del nostro esistere O di compiere Poi Delle opere Di amore Un altro aspetto Del deserto Lo voglio sottolineare Che ci viene richiamato Proprio Da questa esperienza Che il battista Ha voluto fare Il silenzio È un grande nemico Di Dio Il chiasso Il rumore In cui viviamo Il chiasso Che riempie Tutti gli spazi Della nostra giornata In discoteche Per i giovani La tv sempre accesa E ad alto volume Gli auricolari I telefonini Non si riesce A avere Si ha paura Del silenzio E credo Che il maligno Abborrisca Il silenzio Perché nel silenzio Siamo costretti A porci Degli interrogativi Molto importanti E molto seri Nella nostra vita Solo nel silenzio Possiamo ascoltare Dio Che parla nel silenzio Del cuore Primo silenzio Da fare Ma poi anche Anche esterno Chi ha fatto L'esperienza Del deserto Sa che Quello è Un luogo Di silenzio In cui l'uomo È costretto A rientrare In se stesso E a porsi Delle domande Importanti Nella vita Ecco un altro Messaggio Che ci viene dato Da questa figura Del battista Conclude il Vangelo Dicendo È vissuto nel deserto Fino al momento Della sua manifestazione Israele Quando ha dovuto Iniziare La sua missione E l'Evangelista Luca Difatti Al capitolo terzo Inizierà Dicendo Nell'anno decimo quinto Dell'impero Di Tiberio Cesare La parola di Dio Cadde su Giovanni Figlio di Zaccaria Nel deserto E inizia poi La missione Di questo personaggio Che quest'oggi Nella sua festa Nella festa Della sua nascita Ci lascia Un messaggio Importante Per la nostra vita Buona domenica a tutti